L'esordio dell'Atalanta Under 23 nel girone A del campionato di Serie C non è andato come tutti speravano. La Virtus Verona si è portata a casa i tre punti, ma i neroazzurri hanno tutt'altro che demeritato. Sì, abbiamo fatto l'esordio, è stata una partita difficile, abbiamo perso 3-2, siamo passati in vantaggio, poi comunque secondo me un po' di esperienza ci manca, siamo una squadra giovane, però abbiamo un ottimo allenatore e ci farà migliorare sicuramente. Giuseppe Di Serio è uno degli elementi d'esperienza di questa Atalanta Under 23. Attaccante, seppur giovane, ha compiuto 22 anni lo scorso 20 luglio, ha già maturato esperienza, giocando sia in Serie A con il Benevento, sia in Serie B con Benevento e Perugia. Questa è un po' la prima esperienza per parecchi giocatori, quindi ci vorrà del tempo, ma secondo me siamo sulla buona strada. Rispetto magari alla B, che c'è un po' più di tecnica qua, è tutta seconda e palle, grinta e questo non ci deve mancare. Poi se noi mettiamo questo in campo le doti tecniche ci escono, perché siamo l'Atalanta. Ora per l'Atalanta Under 23 il calendario propone la trasferta a Trento, che alla prima stagionale è andato ad imporsi in trasferta. Alla fine la prepariamo come tutte le partite, sappiamo che il Trento è una squadra forte, ha vinto 0-1 contro la Triestina. Vabbè, noi metteremo in campo le nostre qualità e sarà dura per il Trento. Come si diceva, Di Serio è uno degli uomini d'esperienza di questa Under 23. Sono molto contento di essere qua, ringrazio il direttore Gatti e il mister per aver puntato su di me. Quando ho saputo dell'opportunità di venire qua non l'ho dubitato, perché qua c'erano tutti i presupposti per fare bene, tutte le strutture, tutte le disposizioni, quindi c'è solo da migliorare. Grazie per la visione!